E allora, abbiamo qui il nostro ospite Lorenzo Tedici, che noi siamo abituati a vedere durante i nostri spezzi di... erano le 6.46 ora italiana, le 14.46 in Giappone. Questo epicentro è stato individuato ad est della costa di Honshu, ad una profondità in mezzo all'oceano di oltre 24 chilometri. Sì, i primi rivelamenti intorno ai 10 chilometri, poi 24 chilometri, però in termini geologici questa è una profondità veramente molto molto superficiale. Quindi diciamo che è un terremoto superficiale, sono questi i terremoti che provocano proprio gli tsunami a causa della superfometria all'ora. Questo è lo tsunami, un terremoto superficiale, un maremoto in italiano che poi ha preso proprio questa terminologia tsunami, che viene dal giapponese onda che distrugge i porti fondamentalmente, onda del porto. Tsunami, dunque uno tsunami, mille chilometri orari di una massa d'acqua incredibile. L'epicentro era a 100 chilometri dalla costa vicino a Sendai, una città giapponese di un milione di abitanti, e quindi tutti gli ingredienti per una situazione tra le peggiori. Perché ricordiamo che i terremoti più violenti hanno colpito il Cile e l'Alaska, siamo intorno ai 9,5 e 9,1 di magnitudo Richter, ma erano zone desertiche. In questo caso veramente a 100 chilometri da una città di un milione di abitanti, sulla costa, con un epicentro così superficiale che favorisce il tsunami, onde di 10 metri anche a Sendai, abbiamo visto le immagini, quelle immagini incredibili, Tokyo è a 400 chilometri di distanza. Quindi a Tokyo sì, tutti i grattacelli hanno vibrato, però siamo lontani, insomma. Tra l'anno in Roma sono 600 chilometri, però 400 inizia già ad essere una distanza per essere un po' più tranquilli. Io immagino che sul settore nord-est dell'isola di Honshu, vicino a Sendai, ci siano delle zone interne duramente colpite, perché un terremoto così è il settimo della storia del pianeta, insomma, il settimo come intensità. Il settimo come intensità nella storia del pianeta. Ed è paragonabile a quello di Sumatra del 2004, perché fu 9,1, questo 8,9. Tra l'altro questi terremoti così intensi, della cintura del fuoco del Pacifico, sono sempre difficili da interpretare, potrebbe venire fuori anche che è un 9,0 invece di un 8,8 e nella scala Ritter cambia, ma comunque diciamo siamo a livelli massimi. Addirittura una particolarità quando si...